Ghostbusters a fumetti, pubblicato dalla IDW. Questo è il secondo omnibus in inglese. Andiamo a sfogliarlo insieme. Babalabadabdabe, bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Ghostbusters nel mese in cui uscirà Ghostbusters. Afterlife, titolo europeo Ghostbusters Legacy, che dir si voglia, che finalmente si posiziona in continuity dopo i primi due film. Ma forse non tutti sanno che c'è già qualcos'altro che si posiziona in continuity dopo i primi due film e sono rispettivamente il videogioco Ghostbusters The Video Game del 2009, ambientato però nel 92, e subito dopo i fumetti della IDW che seguono la continuity dei primi due film e del videogioco. Ora, io presumo che questo videogioco e questi fumetti non saranno a tutti gli effetti canonici per quanto riguarda il terzo film, ma spero quantomeno che non venga detta nessuna frase o nessuna azione, non venga compiuta nessuna azione, che li decanonizzi ufficialmente. Ecco, mi piace pensare che possano restare canonici. Oggi parlerò con voi del secondo omnibus dopo più di un anno dal primo, scusate del ritardo, ma il tomo è così e rileggerlo è un po' lunghetta, tant'è che l'ho un po' sfogliato, è pure in inglese, quindi è ancora un pochino più difficoltoso. L'ho sfogliato uno per raccontarvi un po' la trama, come procede, e due per mostrarvi le citazioni. Le citazioni. Poi se voi siete anche eccitati di guardarlo, meglio ancora. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video, o un non mi piace anche a tutti gli altri, che vi frega di condividere il video con tutte le persone che hanno uno spirito sumero nel frigorifero e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo numero a fumetti, di queste tavole, di queste citazioni. Se siete curiosi di leggerlo anche voi potete trovarlo anche in italiano, anche se non in questo formato omnibus, ma stanno uscendo, vi metto qua sotto in descrizione il link della casa editrice che li sta pubblicando in italiano. E vi ricordo anche, dato che stanno scorrendo i miei vari social qui sotto, che questa sera sul mio canale Twitch parleremo invece di un altro film dei Ghostbusters, parleremo dei Ghostbusters 2016. Ghostbusters 2016 e ovviamente voi lo sapete, io non lo considero nemmeno, lo voglio demolire questa sera. Ospite della live sarà Pelati e Fumetti, Umberto di Pelati e Fumetti, che sarà con me a parlare insieme di questo film, del perché non ci è piaciuto e di come non c'entri il genere dei protagonisti, ma di come la lotta si sia trasportata su quel fronte, per qualche ragione. Ne parleremo insieme e parleremo anche di questi fumetti, nel senso che comunque lo sfoglierò meglio insieme ad Umberto, in modo che tutti noi possiamo fruire meglio delle citazioni, magari ci sono cose che io non ho colto e che potete cogliere voi direttamente dalla chat, quindi iscrivetevi a Twitch e ci vediamo stasera alle ore 21. Link, come sempre, in descrizione. Ora, bando alle ciance, come il primo volume che era Total Containment, vi metto sempre qua sotto in descrizione il video se non l'avete visto, anche questo secondo omnibus è spettacolarmente, come si dice, riprodotto. Questo rappresenta una trappola, il primo rappresentava il contenitore, qui si rappresenta la trappola. Qua è opaco e lucido, qua è tutto in rilievo, questi sono tutti in rilievo, la luce è lucida, la luce è lucida. Qua sul retro c'è il retro di una trappola, la fibbia per poterla mettere nello zaino o nella cintura, adesso non ricordo, le rotelle della trappola perché la trappola scorre, un'etichetta lucida, è spettacolare. Se voi aprite troverete la luce che si può vedere dall'interno della trappola e se voi aprite invece nell'altro senso vedete i vari chip e le cianografie per costruirla. Davvero spettacolare. C'è un omaggio ad Harold Ramis che è scomparso nel 2014 con la sua divisa appesa nell'armadietto e la prefazione questa volta non è di Ernie Hudson ma è di The Necroid che oltre a essere l'interprete del dottor Raymond Stenz è anche uno dei due sceneggiatori di Ghostbusters insieme appunto a Harold Ramis. Questo enorme tomo sembra rispondere alla domanda creata dagli haters dopo l'uscita appunto del film Ghostbusters 2016 Answer the Call ovvero può una donna essere un Ghostbusters e questa domanda viene fatta anche in anticipo rispetto all'uscita del film perché comunque nonostante l'omnibus sia stato creato dopo ma comunque nel 2015 queste storie sono state scritte nel 2013 quindi comunque molto prima dell'uscita del film. La risposta ovviamente è sì. Come lo sappiamo innanzitutto perché c'è già stata una Ghostbusters donna che era Janine Mellitz nel cartone animato quando aiutava i Ghostbusters e poi c'è stata Kylie Griffin nel cartone animato Extreme Ghostbusters che è un sequel di The Real Ghostbusters. Qui vediamo entrambi i personaggi sia Janine Mellitz che Kylie Griffin riprendere il ruolo di Ghostbusters perché manco a farlo apposta all'inizio di questa storia, di questo numero, i Ghostbusters vengono rapiti vengono rapiti da delle entità demoniache, scusate, dei fantasmi, comunque sì, da delle entità demoniache non ben definite e come sapete, se siete avvezzi alla fantascienza, quando si attraversa un portale dimensionale il tempo scorre diversamente quindi quelli che per i Ghostbusters originali sono poche ore per il resto del mondo, del nostro mondo, sono diversi mesi in questi mesi la città di New York inizia un po' a preoccuparsi di questo posto vacante dato che, come ho detto nell'altro video, il comune di New York ha un contratto comunale con l'agenzia Ghostbusters per la disinfestazione della città di New York e questo contratto comunale è gestito niente poco di meno che da Walter Peck Walter Peck si preoccupa dell'assenza dei Ghostbusters e vuole creare una squadra sostitutiva crea questa squadra sostitutiva con Janine Mellitz, Kylie Griffin, Melanie Hortz che è quella gente dell'FBI che ha aiutato i Ghostbusters nel primo tomo, Total Containment e, ultimo ma non meno importante, va proprio a prendere niente po' di meno che Ron Alexander il personaggio ispirato a Chevy Chase che è quel personaggio che nel primo tomo ha fondamentalmente rubato i progetti degli zaini protonici per creare un'azienda concorrente ai Ghostbusters chiamata Ghost Smashers per appunto creare una concorrenza peccato che lui ha modificato leggermente gli zaini protonici non ha creato un'unità contenitiva come la trappola ma si è limitato a dissipare l'energia ectoplasmica dei fantasmi disintegrandoli fondamentalmente peccato che non sparivano i fantasmi si sono ricreati in qualcosa di peggio e questo è successo nel primo tomo quindi lui si è beccato un po' di mesi di galera uscito di galera lo reclutano Walter Peck lo recluta per diventare un Ghostbusters sostitutivo creano questa nuova squadra ecco, mi metto magari qua laterale così qua vi faccio vedere un po' di foto creano questa nuova squadra e vanno un pochino a, come dire, ricalcare le uniformi che sono quelle dei cartoni animati dei Ghostbusters originali e vanno un po' a richiamare anche le controparti che rappresentano nonostante Janine Melitz sia innamorata di Egon Spengler ha comunque la tuta marrone di Peter Winkman questo perché di tutti e quattro Janine è la bocca di questa nuova squadra esattamente come Peter Winkman mentre la tuta di Egon Spengler diciamo dell'Egon Spengler dei cartoni animati va proprio a Ron Alexander perché nonostante sia uno scienziato che abbia che ha inventato la tecnologia è comunque abbastanza intelligente da riprodurla e quindi è quello più tecnico del gruppo mentre Kylie Griffin, sappiamo tutti, che è legata in questo contesto a Race Tens perché lavora per la sua occultoteca quindi ha la divisa di Race Tens e dulcis in fondo Melanie Hortiz che essendo un agente dell'FBI ricorda molto quello che è Winston che vi ricordo ha un passato da Marine cosa che poi non è stata messa nel film ma nello script originale cosa che poi è stata mantenuta nel videogioco e nei fumetti Winston Zedmore ha un passato nelle forze militari così come Melanie Hortiz che è un agente dell'FBI e quindi è molto attenta anche la scelta delle divise divise anche abbastanza sessiste che vengono ottenute per pochissimo dato che Janine si lamenta perché le ragazze hanno fondamentalmente dei bermuda e delle gambe nude quindi queste divise che omaggiano i cartoni animati durano poco poi le ragazze vanno a riprendersi le uniformi classiche dei film quindi quelle marroncino chiaro oppure quelle blu la storia iniziale è molto bella la premessa devo dire che il finale è abbastanza scialbo e in generale questo secondo tomo è leggermente inferiore come qualità di trama rispetto al primo tomo resta comunque ineccepibile nei disegni perché appunto ci sono diverse trame che tra loro sono meno collegate sono comunque autoconclusive e anche gli archi più lunghi a volte hanno questo finale un po' così si scopre che queste entità che hanno rapito i Ghostbusters si chiamano collezionisti che hanno già rapito delle persone illustre in passato che i Ghostbusters sono gli unici a essere fuggiti perché appunto poi Egon riesce a trovare un modo per sfuggire da questo portale e in questo modo tutti gli otto i Ghostbusters combattono questa entità che appunto sembrano meno una minaccia meno pesante di quella che sembrava all'inizio vista le premesse iniziali si chiude la prima trama e si prosegue con una trama in cui si scavano le radici di Janine Janine Mellitz pare abbia delle origini svedesi ed è stata chiamata da una sorta di divinità svedese per superare una certa prova quindi Egon con anche il fidanzato di Janine e Roger quello che assomiglia a Egon Spengler di Extreme Ghostbusters scavano un po' nella mente di Janine quindi vediamo questa Janine che riprende un po' le varie fasi della sua vita la vediamo quando viene assunta nella squadra dei Ghostbusters vediamo che ha proprio il taglio di capelli esattamente come nel primo film ma mantiene la chioma rossa per tutta la durata vediamo tutti i vari tagli di capelli che ha avuto tra il primo e il secondo film e attualmente quello attuale ricorda un pochino quello dei cartoni animati e in questa seconda storia non essendo più necessari secondo me sì ma vabbè non essendo più necessari otto Ghostbusters tutti insieme quantomeno non sul libro paga apparentemente Ron Alexander viene spedito nella sezione Ghostbusters di Chicago dove niente po' di meno c'è che The Rookie ovvero il personaggio giocabile di Ghostbusters The Video Game il carattere molto fastidioso di Ron Alexander che è una specie di Vinkman ancora più arrogante dà molto fastidio a The Rookie che invece è molto silenzioso ed è pacioccone come Ray ed è molto bello come tra i due quello nuovo sia Ron Alexander ma lo tratti come se fosse anche una recluta rispetto a lui mentre Melanie continua a lavorare per l'FBI quindi torna con l'FBI Kylie Griffith invece rimane nella squadra e ogni tanto aiuta oltre a lavorare nell'occultoteca mentre Janine Melitz riprende il suo ruolo di segretaria in questo numero esattamente come in Ghostbusters 2 in questo secondo tomo oltre a Walter Peck c'è anche Jack Hardenmayer che fondamentalmente è il cattivo burocrate di Ghostbusters 2 che non è incisivo come Walter Peck tant'è che appunto è abbastanza dimenticabile e quasi riconoscibile anche nel fumetto però mi piace che è stato citato anche lui ha collaborato con Walter Peck che appunto è a capo del contratto di supervisione per commissioni paranormali quindi sarebbe l'acronimo CSCP ma in inglese suona qualcosa come Peacock infatti c'è un gioco di parole tra l'acronimo Peacock e l'animale Peacock è il pavone quindi è proprio un gioco di parole voluto per prendere in giro questo contratto comunale mentre Jack Hardenmayer fondamentalmente sarebbe stato una sorta di impiegato di Walter Peck che viene tra l'altro licenziato all'inizio della diciamo il loro rapporto si scinde alla fine della prima storia quella del rapimento dei Ghostbusters originali e viene rimpiazzato solo nelle note finali quindi neanche in una storia a fumetti ma nelle note da Jenny Moran Jenny Moran è una delle tre Ghost Smasher una delle tre diciamo dipendenti di Ron Alexander nel primo volume lo dico perché questo personaggio sarà molto più importante nel terzo tomo che si chiama Interdimensional Crossrip che è dei tre quello che mi è piaciuto meno ma ci sono degli spunti interessanti poi parlerò anche di quello ma uscirà dopo Ghostbusters Legacy scusate il ritardo ma d'altronde sono dei tomi enormi successivamente alla storia del rapimento e la storia delle origini svedesi di Jenny ci sono delle storie brevi che passano dal citare Halloween alla storia di Natale in cui c'è una sorta di fantasma che ha la forma di Babbo Natale che diciamo racchiude un po' tutta l'energia negativa dei vari Babbo Natali dei centri commerciali e hanno formato questo spirito c'è una fantastica storia su Los Dias de los Muertos in cui appunto finalmente danno una spiegazione un pochino più spirituale all'attività dei Ghostbusters mentre nel primo numero si parlava proprio di conservazione della materia qui parlano proprio di spiriti e di come i Ghostbusters si limitino a catturare le entità che disturbano quindi quello che si può tradurre in spiriti maligni quindi fondamentalmente se un defunto diventa un fantasma al Ghostbusters non lo va a intrappolare in una prigione perché sì va a intrappolarlo in una prigione se è un'entità che può disturbare che può ledere l'incolumità di un essere vivente e questo lo spiegano in una storia breve ma è molto importante come spunto peccato non venga poi magari sviluppato in concetti successivi ma è interessante che l'abbiano trattato tra queste storie brevi c'è anche una storia sul Babau viene citato il Babau di The Real Ghostbusters che è un personaggio stupendo che fa terrorizzare Egon non ha lo stesso aspetto ha un aspetto molto più in linea con i disegni di questo fumetto ma comunque l'aspetto del Babau dei cartoni viene citato in un incubo che fa Egon ve lo metto sempre qua mentre Winston due cose importanti su Winston innanzitutto Winston sta studiando per avere anche lui una laurea che però non c'entra nulla con delle lauree scientifiche sta studiando legge sta studiando legge quindi prima o poi diventerà avvocato vi ricorda qualcosa? c'era già un avvocato nei Ghostbusters era Louis Tully Louis Tully che nel primo numero Total Containment non c'è non viene proprio citato ha cambiato città anche in questo in questo numero si vede finalmente torna a New York poi vi spiego perché ma appunto ha una parte minima peccato perché io Louis l'avrei preferito come personaggio di contorno della squadra invece lo usano davvero davvero poco comunque Winston diventerà un avvocato e sta frequentando una ragazza anzi direi che è proprio la sua fidanzata che si chiama Tia e in questo numero in questo secondo tomo finalmente vediamo le nozze di Winston con Tia è molto bello perché vediamo per chi magari lavora in una squadra una realtà che abbiamo vissuto sulla nostra pelle ovvero i colleghi più stretti che vanno al matrimonio e colleghi da altri punti diciamo da altri come si dice da altri punti dislocati in questo caso i colleghi di Chicago Melanie Ortiz Kylie Griffin e Ron Alexander vanno a sostituire i Ghostbusters che si sono presi un giorno libero per andare al matrimonio di Winston e questa è una cosa che ho sentito mia diciamo avendo avuto la stessa esperienza di invitato a un matrimonio con gente che ti sostituisce viene anche citato Edoardo un altro degli extreme Ghostbusters che però è davvero un ruolo marginale in questo secondo tomo praticamente sostituisce Kylie Griffith nell'Occultoteca quando Kylie Griffith fa la Ghostbusters fondamentalmente e proprio in una storia breve Edoardo riceve un libro strano che lo catapulta se non sbaglio nell'antico Egitto questa storia breve che sembra così inutile in realtà parla di una divinità che si chiama Tiamat questa divinità niente po' di meno è che la sorella di Godzer tutta la macro trama finale di questo numero perché poi ci sono altre storie brevi anche sui The Real Ghostbusters che non sto a raccontarvi magari le sfoglieremo assieme stasera tutta questa ultima macro trama parla proprio di questa divinità Tiamat che fondamentalmente vuole giocare a chi ha il cazzo più lungo con il fratellino Godzer quindi vuole fare più casino di quanto ne abbia fatto Godzer fondamentalmente quindi va proprio a recuperare sia Louis Tully che per qualche ragione torna a New York sente di dover tornare a New York e anche Dana Barrett quindi il personaggio di Sigourney Weaver che tra l'altro qua viene disegnata è molto somigliante ma viene disegnata con il taglio di capelli più corto che ha attualmente non attualmente ma che ha avuto negli anni successivi Sigourney Weaver Tiamat va a possedere di nuovo Louis e Dana esattamente come fece Godzer nel primo film in questo caso non si trasformano in dei mastini infernali ma si trasformano in una sorta di arpie sembrano dei leoni con una testa d'aquila quindi non hanno le ali però ricordano vagamente delle arpie con qualche escamotage riescono a fare in modo di farli tornare umani e poi si occupano degli effetti collaterali quindi vogliono controllare che siano che non siano più posseduti nonostante appunto sembra che non lo siano ma non si fidano perché Tiamat è stata sconfitta in modo troppo facile in realtà appunto Tiamat non è assolutamente stata sconfitta in un certo senso e mentre cercano tracce di possessioni oltre a indagare nella testa di Louis Stalle e di Dana Barrett indagano anche in quella direi che in questa lotta finale è stato di nuovo posseduto da Vigo il Carpatico quantomeno aveva all'aspetto di quando è stato posseduto di nuovo da Vigo che vediamo in una citazione anche qua nonostante Vigo di per sé sia stato distrutto quindi non è veramente Vigo ma è qualcosa che prende la forma di Vigo non è propriamente lui quando stanno indagando nella testa di Ray si accorgono che Ray è davvero posseduto da un'altra entità non si capisce bene se ancora da Godzer o se da un terzo fratello fatto sta che è posseduto sia da Tiamat che da Godzer e queste due entità stanno lottando nella testa di Ray quello che il Ray posseduto vuole fare è distruggere il dispositivo di stoccaggio che come dice Igone è quasi più grave che aprirlo perché potrebbe causare un'esplosione ancora più catastrofica di liberare i fantasmi di per sé vuole fare questo appunto per fare quello che faceva Godzer quindi distruggere il mondo dominarlo perché sì perché è una divinità in questa colluttazione interna tra divinità addirittura Tiamat ingoia l'entità di Godzer per mostrargli quanto è superiore a lui quindi Ray viene definitivamente posseduto solo da Tiamat e qua gioca un ruolo chiave Winston e diciamo il suo contrattare da avvocato Winston come tutte le altre persone della squadra ha sentito dagli scienziati da Kylie che è la studiosa dell'occulto del gruppo che comunque Tiamat in quanto divinità può essere placata con un sacrificio umano e Winston si offre offre di sacrificare la sua vita se Tiamat se ne vada da questo piano dell'esistenza quindi dal corpo di Ray che in quel momento stava per distruggere la griglia di stoccaggio quindi Winston fondamentalmente si attacca all'elettricità quindi si si autofolgora per lasciarci le penne e vediamo Winston che diciamo lo spirito di Winston che parla con Tiamat e giustamente non potendo eliminare un Ghostbusters principale dalla storia così Tiamat dice no no questo tuo sacrificio questa tua morte da eroe per te che sei un soldato per me non vale perché per un soldato morire in battaglia è un onore grandissimo quindi fondamentalmente non è un vero sacrificio per me una cosa del genere quindi io ti faccio ritornare in vita e mi prendo qualcosa da te che decido io e in questo modo noi vediamo come nel finale Tiamat fondamentalmente si prenda l'amore tra Winston e Tia fondamentalmente il loro matrimonio Tia non si ricorda più nemmeno chi è Winston sa solo che è un Ghostbusters ma è come se non l'avesse mai conosciuto tanto meno sposato questo mi ha ricordato molto anche Mephisto che si prende il matrimonio di Peter Parker e Mary Jane così per in cambio di qualcosa si è preso si prendono l'amore queste divinità malvagie il sacrificio supremo è rinunciare all'amore quindi Tiamat si è presa l'amore che c'era tra Winston e la sua fidanzata un po' di citazioni qua e là che stasera approfondiremo qua in questa tavola dove appunto ci sono Ron Alexander e la recluta vediamo un bambino a scuola che è chiaramente il personaggio di Jason Reitman di Ghostbusters 2 che si prende gioco dei Ghostbusters di Chicago perché non sono gli originali a un certo punto ci sono delle auto che levitano per New York perché c'è qualche strana possessione tra le auto che levitano c'è esplicitamente una DeLorean per citare la DeLorean di Ritorno al Futuro che volava Ritorno al Futuro 2 che volava in questa tavola vediamo i Ghostbusters anziani per qualche ragione che però indossano le uniformi di una linea di giocattoli di The Real Ghostbusters successiva alla prima se ricordo magari come si chiamava la linea ve lo metto qua in sovraimpressione se notate hanno proprio l'aspetto che hanno gli attori da anziani quindi Vinkman ha i capelli vistosamente bianchi e Igon invece ha i capelli un po' salepepe ed è ha preso peso rispetto a quanto a quando era in gioventù esattamente come l'attore Harold Ramis c'è Peter Vinkman che poi fa proprio una battuta su questa cosa gli dice smettila coi Twinkie non hai visto quanto prenderai peso se ci fate caso quando inquadrano lo zaino protonico della recluta è l'unico zaino protonico che ha tutti gli implementi che ha avuto nel videogioco quindi è l'unico zaino protonico che spruzza che è anche uno sparamelma e spara melma verde come nel videogioco non quella rosa di Ghostbusters 2 quando la fidanzata di Winston sta chiacchierando con una sua amica al bar fuori passano due personaggi questi due personaggi sono gli stessi personaggi che hanno guardato il titanico il titanic atterrare atterrare scusate attraccare nel porto di New York in Ghostbusters 2 sono gli stessi personaggi i Ghostbusters quando sono in borghese spesso utilizzano gli stessi vestiari che utilizzavano nel film Peter Vinkman spesso ha il cappotto lungo che indossava in Ghostbusters 2 o a volte ha la camicia quadri e la giacca marrone che indossava in Ghostbusters 1 o un giubbino rosso sopra la tuta da Ghostbusters che indossava sempre in Ghostbusters 1 questo è un fantasma che veniva fornito se si acquistava la Ecto 1 dei giocattoli bene spero di aver soddisfatto aver titillato la vostra curiosità in attesa di Ghostbusters Legacy che andrò a vedere al day one ecco non so ancora dove magari ve lo scrivo in descrizione così se siete nei paraggi ci si vede anche sicuramente andrò allo spettacolo delle 7.30 noi appunto ci vediamo stasera sul mio canale Twitch con Umberto di Pelati e Fumetti io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico anche arrivederci al prossimo video